Amici di Youtube, ben trovati da Marco Liguori, è morta poche ore fa la bellissima attrice, ore di sgomento nel mondo del cinema e delle serie tv, la bellissima interprete ci lascia soli 36 anni e prima di sapere di più vi ricordo che a 500 like pubblicherò immediatamente un nuovo video, è stato un triste risveglio per tutto il mondo del cinema e per le serie tv la bellissima attrice ci ha lasciato a soli 36 anni, questo è il tragico fato, toccato alla famosa attrice messicana Cecilia Priego per chi non la conoscesse o semplicemente per chi non la ricordasse diciamo che Cecilia Priego ha preso parte alla serie tv su Netflix la regina del sud nel 2021 all'attrice fu diagnosticato un cancro e poche ore fa la triste notizia Cecilia Priego ha perso la sua battaglia il secondario di Marco Liguori con grande dispiacere ricorda un bellissimo angelo volato in cielo davvero troppo presto l'attrice messicana Cecilia Priego scomparsa 36 anni amici di Youtube, io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video